Ciao a tutti da Valeria Dopo la scarpina di cristallo è stata finalmente trovata Come chi? Vi aiuto? Topolini, sorellastre, un principe? Vi dico tutto dopo il treno Non siate dei perdenti, siate dei vincenti Avevo una moglie, due bellissime figlie Grazie a Dio l'ho lasciata Ora vivo con sette zuccherini E posso scegliere tra loro Oh mio Dio, questo qui mi capisce Non credi che ci meritiamo di meglio? Io lo credo Signor Dorval, ora fa uso di steroidi? Credo mi abbiano fatto male Certo ha avuto palle a venire qui Più che palle, noccioline Noccioline ricoperte di cioccolato almeno Oddio, scusi Siamo oppressi da gente che ha barato per ottenere ciò che ha Possiamo cambiare tutto Non puoi rapire un tizio e prenderti le sue cose? Sì, certo, è un criminale Cerchiamo attrezzature per stordire Mettere fuori combattimento e immobilizzare il prossimo Colpisci mi! Colpisci! Aquila in arrivo L'avete preso? Dove è andato? Eccolo! Hai puntato la BMW sbagliata Credevamo fosse la sua È identica a quell'altra Quei tizi si sono impossessati di tutto quello che avevi Grazie amico È tutto legale e vincolante E se la spassano Ti manderò in estasi In stile ninja Cosa diavolo volete? Afferra quel bambolotto pigmeo Se non la smetti piccoletto ti do una testata e ti metto cappà Hai combinato un guai? Forse sì Mi hanno beccato l'alluce e c'è l'osso che spunta Ehi piccolo Hai fame? Che diavolo ci fai lì a terra? Fa male Deve fare male Si chiama soffri e cresci Non fare la femminuccia Non fissarmi così ragazzo Ho visto tua madre fare avanti e indietro sulla strada Sarò il tuo patrigno fra una settimana Cenerentola Eh esatto È stata trovata la protagonista del live action targato Disney La scelta è caduta sull'attrice Lily James Che porterà sul grande schermo la famosa principessa La James si unisce quindi alla matrigna Interpretata da Cate Blanchett Il film è scritto da Eileen Brush, McKenna e Chris Weeds E sarà diretto da Kenneth Branagh Resta ancora senza volto invece il Principe Azzurro Ma vi terremo informati Per oggi è tutto Ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook FilmizNow Ciao e alla prossima